Sicuramente sarà una partita diversa, assolutamente diversa. Però l'Andria, io adesso ho visto diverse partite dell'Andria, è una squadra organizzata che gioca anche a calcio, cerca di giocare a calcio. Io adesso poi, se sono lì, hanno dei problemi, non so che tipo di problemi che hanno, però non è una squadra che si mette dietro e ti aspetta. È una squadra che si gioca, almeno le partite che ho visto io, è una squadra che si gioca la partita a viso aperto. Da un punto di vista sicuramente dell'agonismo, in questo momento i punti iniziano a pesare e quindi sarà una partita molto sentita da tutte e due le parti. Però noi, insomma, in questo momento dobbiamo sicuramente, come hai detto tu, fare qualcosa in più. Perché se è vero che col Trapani abbiamo fatto una buonissima prestazione, è anche vero che non abbiamo portato a casa niente. Se non abbiamo portato a casa niente vuol dire che abbiamo commesso degli errori e quindi bisogna partire da quella predisposizione lì, da quell'approccio lì, da quella voglia lì di fare la partita. Però poi bisogna ridurre al minimo gli errori, perché adesso i punti iniziano a pesare. Allora io, devo essere onesto, sono contento del gruppo che ho a disposizione. Poi, giustamente come dicevi tu, però bisogna essere realisti e bisogna essere consapevoli di qual è in questo momento la nostra realtà. La nostra realtà in questo momento è quella che dobbiamo pensare a salvarci il prima possibile, perché abbiamo effettivamente un calendario difficile. Abbiamo tre partite in casa e cinque fuori. E se la partita col Trapani poteva magari aprirci altri orizzonti, oggi dobbiamo essere tutti consapevoli. Io capisco che a Catanzaro parlare di salvezza in Serie C fa storcere un pochettino a tutti, però in questo momento la realtà è questa. Bisogna essere tutti consapevoli, la squadra è cosciente. Io sono fiducioso, assolutamente fiducioso, perché come ho detto la settimana scorsa, mi stanno seguendo, mi hanno dato massima disponibilità. E quindi sono fiducioso. Dobbiamo pensare, sì, all'avversario, però dobbiamo pensare poi soprattutto a noi, a fare le cose che stiamo provando a fare. Sì, sì, no, c'è stata immediatamente un'empatia forte con il gruppo. Sarà che anche io adesso, insomma, ero fuori da un po' e avevo una gran voglia, però c'è stata subito una grande empatia. Io poi calcisticamente parlando mi innamoro dei miei giocatori. Quindi in questo momento i miei giocatori sono i giocatori più forti che io posso avere in questo campionato. A questo c'è anche da aggiungere quello che ci ha dato lo stadio, quello che ci hanno dato i tifosi durante la partita e a fine partita. Perché i tifosi hanno dimostrato di essere tifosi maturi, perché in questo momento tu esci sconfitto in casa e loro ti fanno uscire tra gli applausi. Hanno dimostrato di aver apprezzato, di essere maturi e noi, i tifosi così, dobbiamo far di tutto per renderli sempre orgogliosi di quello che facciamo. Io penso che qui ci sia un grande potenziale, che purtroppo però questo dobbiamo aprirlo e chiuderlo adesso, perché in questo momento il nostro futuro è Andria. Però penso che qui ci sia veramente un grande potenziale a 360 gradi per il futuro. Però tutto passa da Andria.